Non avevano diritto al reddito di cittadinanza, oltre 100 i denunciati tra Chioggia e Jesolo. I furbetti che pensavano di farla franca sono imprenditori, ristoratori e stranieri. I finanzieri della compagnia di Chioggia, spulciando fra le carte di oltre 4.000 persone che il reddito lo percepiscono, hanno individuato 86 soggetti che avrebbero ottenuto illecitamente somme non dovute per una montare totale di 928.000 euro. In particolare, 24 di loro avrebbero omesso di comunicare all'Inps informazioni relative alla propria posizione lavorativa eredittuale, dichiarando di non lavorare pur essendo titolari di partite IVA. Singolare è il caso di un imprenditore che non avrebbe comunicato di essere rappresentante di ben quattro società dislocate sul territorio nazionale e di un ristoratore, dichiaratosi non abbiente, pur avendo incassato oltre 60.000 euro di ricavi in un solo anno. In ben 62 casi, i titolari del reddito non risiedevano in Italia da almeno 10 anni, requisito essenziale per poterne godere, come nel caso di una cittadina rumena che percepiva indebitamente il sussidio anche se risiedeva stabilmente in Romania dal 2019. 23 persone sono state individuate dalle fiamme gialle della tenenza di Jesolo, anche in questo caso per la maggior parte stranieri non residenti in Italia da almeno 10 anni e spesso proprietari di immobili. Il caso più eclatante è un carcerato che continuava a godere della particolare misura di sostegno. Ora l'Inps, tempestivamente avvisata, procederà alla revoca dei contributi e il recupero di quelli già erogati dal 2019. Tutti i furbetti individuati sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Venezia.